Dopo la visita dal memoriale dello Yad Vashem, nei pressi della grande sinagoga di Gerusalemme, il Papa ha incontrato i due gran rabbini d'Israele, la schenazzi Yona Mesger e il sefardita Shlomo Amar. È buono essere fai fratelli, ha detto abbraccio prima del discorso preparato, e se i fratelli sono i fratelli maggiori, è meglio ancora. Quindi ha ricordato la presenza di due rabbini amici di Buenos Aires, con i quali, quando era arcivescovo della capitale argentina, ha organizzato fruttuose iniziative di dialogo ed ha anche vissuto significativi momenti di condivisione sul piano spirituale. Un cammino di amicizia frutto del Concilio Vaticano II e della dichiarazione nostra etate, ha spiegato il Papa, che si è detto convinto che quanto è accaduto negli ultimi decenni nelle relazioni tra ebrei e cattolici sia stato un autentico dono di Dio. Un dialogo che ora deve proseguire, perché come cristiani ed ebrei, ha chiarito Papa Francesco, siamo chiamati ad interrogarci in profondità sul significato spirituale del legame che ci unisce. Un legame che viene dall'alto, che sorpassa la nostra volontà e che rimane integro, nonostante tutte le difficoltà di rapporti purtroppo vissute nella storia. Insieme, a concluso il Pontefice, potremo testimoniare in un mondo in rapida trasformazione il significato perenne del piano divino della creazione. Insieme potremo contrastare con fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di discriminazione. Grazie a tutti.